A pochi minuti il professore Antonio Mestineo è un cittadino onorario di Monterchi a aprire questa carica e un consiglio straordinario aperto fatto per accogliere il professore. Allora professore, qual è arrivata questa notizia? Quali sono state le sue sensazioni? Mi è sembrato sicuramente molto strano e mi sono ritenuto assolutamente immeritevole di questo dono che il Comune di Monterchi ha voluto farmi. Comunque ne sono onorato e sono contento di essere qui oggi. L'ho saputo alcuni mesi fa dall'amico Davide Cerini che mi ha appunto detto che c'era questa iniziativa. Io sono veramente molto contento di essere qui come tanto spesso sono stato qui a Monterchi per testimoniare la presenza del nostro ospedale e dell'ospedale Meyer a difesa e per la salute dei bambini. Voglio ringraziare Davide e Luigi che sono qui al mio fianco che ovviamente sono loro che con la loro forza e la loro spirito iniziativa ci aiutano facendo una serie di iniziative che poi permettono di raccogliere fondi e ci permettono anche di fare tante belle cose positive per il nostro lavoro. Ritornando invece alla sua onorificenza, il sindaco è stato sicuramente aperto a questa iniziativa che è stata proposta dagli amici della sezione Meyer, però lei si sente un po' anche monterchese? Assolutamente sì, il fatto che ci venga così spesso qui a Monterchi e diciamo in tutta la Valtiberina per iniziative mi ha fatto essere molto vicino a questa popolazione. e nella semplicità e nella capacità che la popolazione ha di esprimere la propria benevolenza nei confronti delle persone che vengono fuori come me. Sostenitori ovviamente di questa proposta sono stati i rappresentanti dell'associazione Amici del Meyer sezione Valtiberina, con noi Davide e Luigi. Davide, qual è stata la spinta che vi ha portato a proporre questa grande e bella iniziativa? Vedi, è nato tutto diciamo da una brutta esperienza ospedaliera, che a volte da una brutta esperienza si tira fuori una grandissima amicizia, come è successo a me e a Luigi con Antonio Messineo. Grazie a lui che ci ha dato una grande mano a fare questa prima ed unica sezione Meyer che esiste in Italia, l'abbiamo fatta qui in Valtiberina. È una sezione che cerca di coinvolgere tutte le associazioni della Valtiberina per promuovere direttamente da loro delle manifestazioni, degli eventi come la Polenta o altre manifestazioni che ci sono anche oggi, Monterchi Runner, quella che ci sarà domani ad Anghiari del Museo Viola. È tutto per far conoscere che a un'ora e mezzo di macchina dal nostro paese abbiamo uno degli ospedali più importanti al mondo sotto quello che è la pediatria. Poi avere un amico come Antonio che lo disturbiamo di continuo per tutti i nostri problemi della Valtiberina che riguardano i bambini, siamo veramente onorati e onorati di averlo fatto cittadino di Monterchi. Si è appena concluso il consiglio straordinario che ha donato la cittadinanza onoraria ad Antonio Messineo, il direttore del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale Meyer. E' con noi il sindaco che ha appunto conferito questa onorificenza. Allora sindaco, come mai Antonio Messineo è diventato ora un cittadino onorario di Monterchi? Ma già da molto tempo il professore ha manifestato per questo territorio un legame forte, un legame forte sempre manifestando una grande disponibilità per tutte le esigenze delle famiglie che hanno avuto bambini con dei problemi. Quindi è stato veramente un punto di riferimento di questo territorio verso l'ospedale Meyer di Firenze. Quindi è una figura importante, molti genitori sono legati a questa figura perché ha risolto delle problematiche fortemente critiche. Quindi perché? Perché appunto è fondamentale avere un bel rapporto fra un territorio e una struttura ospedaliera attrezzata, moderna, che possa dare risposte alle esigenze dei nostri bambini. Allora ricordiamo che il professor Messineo sarà presente ad alcune iniziative che sono inserite all'interno del cartellone della Sacra della Polenta. Sì, queste iniziative fatte appunto dall'associazione Proloco, infatti questa sera ci saranno altre premiazioni durante la manifestazione appunto della Sacra. Sarà nostro ospite appunto nella Sacra in cui avremo anche altri ospiti del territorio con alcuni sindaci che sono stati invitati. Quindi faremo una festa insomma come merita l'occasione. Quindi possiamo concludere dicendo che c'è un collegamento ancora più compatto e stretto tra Monterchi e il Meier? Senz'altro, senza altro. Il Meier, il Monterchi e tutta la Valtiberina perché come è stato detto appunto anche dal professore, noi ovviamente Monterchi perché noi rappresentiamo questo territorio però è fondamentale fare un collegamento complessivo con tutta la Valtiberina. Grazie.